La nostra scuola riflette la società complessa in cui viviamo e ci pone ogni giorno di fronte a nuove sfide e criticità. Ma come riuscire a valorizzare le differenze che sono presenti nelle nostre classi? In questo breve percorso online rifletteremo innanzitutto su una lettura delle difficoltà che ci sono in classe per sapere come intervenire. Poi partendo dai principi base dell'apprendimento cooperativo vi proporrò alcune attività e alcuni percorsi semplici in cui riusciamo a trasformare quello che facciamo in classe in una modalità più cooperativa e inclusiva. Infine partendo dalle abilità sociali ci saranno alcune esperienze concrete su come facilitare queste competenze nelle classi. Vi accompagnerò in questo breve percorso non solo come psicologa e formatrice ma soprattutto come insegnante perché tutti i giorni mi trovo tra i banchi di scuola. Vi aspetto!